E' arrivato il momento del tempo di la corsa, siamo tutti pronti con la luce, ci vediamo 1, 2, 3, lo spettacolo del tempo di la corsa, la lega, buona buona serie a priministra 1, 2, 3, lo spettacolo del tempo di la corsa, la lega, 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 la lega. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.